Più un lavoro di responsabilità. Ti stai giocando il tuo futuro, la tua carriera. Come hai trascorso le tue giornate in quarantena? Questa avventura per te è cominciata con la Serie A1, un successo cercato, voluto fortemente dal Park Tennis Club Genova. Per te che significato ha questo trionfo? Come la Serie A, sia come compagni, sia come avversari, con giocatori più grandi, più forti di te, con classifica migliore della tua, quanto ti può arricchire in questa fase della tua carriera? Sicuramente tantissimo, perché comunque vedere l'umiltà di Pablo. Mediatica, tutt'altro che banale. Praticamente convivo con lui, quindi sto più giorni con lui che con i miei genitori, quindi diciamo che... Viste da cinque anni? Le ATP Finance. No 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 Grazie.